L'esultanza di Gilardino. Vedere esultare in quel modo un campionato del mondo, a 35 anni, alla Spezia per una rete su rigore al Frosinone, è un magnifico spot per il calcio. Il Gila, nonostante le difficoltà delle ultime stagioni e una carriera piena di reti, ha ancora voglia di lasciare il segno. La sua esultanza è passione pura, da far vedere e rivedere ai bambini, magari non a quelli di fede giallazzurra. Flop. Episodi. Non è un periodo fortunato per il Frosinone negli episodi, quelli arbitrali ma non solo. Il rigore concesso allo Spezia è frutto di una valutazione errata da parte dell'arbitro Marinelli, ma i giallazzurri non vengono risarciti del torto neanche in occasione del tiro dal dischetto. La trasformazione di Gilardino è tutt'altro che impeccabile, Bardi, foto, intuisce e tocca ma per pochissimo non riesce a respingere. Questione di millimetri, quelli che avevano stampato sulla traversa la conclusione ravvicinata del Gila, quelli che a volte, fanno la differenza fra uno e tre punti.